Musica Salve a tutti ragazzi ben ritrovati qua sul canale di Battlefield Games Io sono Carlo e oggi siamo qua ancora su Titanfall Perché voglio farvi vedere la modalità punti di controllo Che praticamente dovrebbe essere una modalità dominio Come su Battlefield, dominio ovvero le tre bandiere E ognuno deve conquistare E quindi c'è abbastanza movimento diciamo Se uno vuole vincere la partita Se uno invece vuole giocare totalmente a scazzo Non è una cosa molto sensata Però lo può fare Ok, intanto siamo già dentro la partita incredibilmente Cioè un parolone già dentro la partita Stiamo entrando, così va meglio Comunque, Titanfall mi sta piacendo veramente tantissimo ragazzi Perché un gioco mi sembra abbastanza ben fatto Incredibilmente dal lancio non ci sono ancora stati aggiornamenti Stranamente perché I giochi all'uscita hanno sempre problemi Quindi ci sono sempre degli update strani ed eventuali Allora intanto andiamo subito a catturare un po' di obiettivi Tipo A Ho sbagliato tasto Non ci si abbassa In Titanfall Cioè ci si abbassa ma non ci si sdraia Ok, ecco Magari è una cosa che manca questa Potrebbero implementare questa cosa che Dello sdraiarsi Perché ci si può solo abbassare E questo punto qui non lo sapevo C'è un ninja qua sotto Ok, andiamo a cercare un po' di enemies Che ovviamente io Quando gioco e faccio i video Non trovo mai Comunque ragazzi come vedete Ci sono le tre bandiere Come Ok, uno Però mi piacerebbe Beccare un po' di Nemici reali E non Tipo quello No, soldato semplice ucciso E non dei bot Perché i bot Ahia Stanno facendo un male best Andiamo giù Prima di andare a catturare C Senza farci uccidere Possibilmente Perfetto Dov'è C? Cos'è questo? Oh mio dio Ah no, è un mio amico Stai calmo Ve lo farlo io Ok ragazzi Stiamo Parliamo Scusa Facendo fuori Ma di brutto Uno Due Ecco i bots Magari potrebbero implementare un po' L'intelligenza artificiale Un po' più Elevata E questo? Che cacchio pensi di fare te? Non mi aveva visto Incredibilmente ragazzi Facciamo i ninja anche in sto gioco Andate via Andate via tutti Morite A casa Andiamo qua dentro Andiamo su Ho scoperto che in sto gioco Se voi fate Parkour No Mi hanno moruto Dai ma perché col fucile a pompa Sto stronti Vai Se voi fate parkour E fate ninja Su per i muri E per le case Su mio amico È molto più difficile essere uccisi Perché I nemici ovviamente Faranno più fatica mirarvi Quindi È la logica ragazzi Quindi se voi fate il parkour Superi muri come sto facendo Il problema è che non è facile Sembra facile ma non è Infatti Allora Allora Adesso vediamo Conquistare un po' di objective Titan pronti intanto ragazzi Questo muore come minimo Sì l'ho ucciso io Headshot Headshot Beach ragazzi Sto catturando intanto Quello muore L'avevo detto Ho ucciso uno normale Incredibile Quello che era uno normale Un umano Un essere un umano Ah no Vaffanculo Lo stavo conquistando Intanto selezioniamo una carta Super caricatore Gambibionic Gambibionic vai Un torino dovrebbe Non so cosa faccio Però quella carta L'ho attivato sinceramente Senza sapere Le carte devo ancora Scoprirle al 100% So che ti danno tipo Abilità speciali Dov'è il mio Titan? Ah è questo qua Ho fatto un fail Pensavo fosse quello davanti Ok ragazzi Abbiamo il Titan finalmente Andiamo a fare un po' di esplosioni Andiamo su C un po' Senza Eccole Ce n'è già uno Che rompe le palle Perché cazzo C'è uno scudo Qui davanti Col cannone da 40 mm Aia Sta facendo male Assist Island Vai 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 Fallo secco Fallo secco Ce n'è un altro ragazzi C'è un po' Mi sa che siamo un po' implosi Non me ne ero accorto Che c'eva uno sopra Ok Continuiamo Il gameplay Andiamo a conquistare un po' di obiettivi Riuscirò a conquistarne uno Senza farmi Morire Vai vediamo l'abilità Perché corro un po' più veloci Guardate come corro Attenzione Mi son drogato Mi son dopato Andiamo a conquistare B però E che B è stronzo Da conquistare Perché È in mezzo a tutto Andiamo a luccare Un po' di mappa Ho paura che mi arrivi Da ovunque Catturato un obiettivo Ragazzi intanto Grandissimo La c'è un Titan Potremmo provare a farlo fuori Non è troppo lontano Mi sa Intanto Proviamo a Difendere un po' l'obiettivo Cerchiamo di fare un po' di gioco di squadra Come è giusto che sia Poi ragazzi Perché anche in tutti i giochi O soprattutto in quelle modalità Bisogna fare sempre gioco di squadra Dice un Titan Mi ha preso in pieno Come cavolo Un cecchino quel Titan E partite a dominio Io lo chiamo dominio ragazzi Quindi Partite a punti di controllo Durano veramente Cioè Durano di più di Di quelle normali Infatti Dezionare a essere un po' più Decenti Aia Non mi ucciderete Ve lo dico che non mi ucciderete Intanto c'è un ninja Oh Io ho visto Non ci posso creare C'era un buco e non l'avamo neanche visto Non era voluto Aiaiaiaia Qua su qui ce n'è uno Qui Almeno uno Umano ce n'è No Sto facendo un po' di strage Andiamo a conquistare A No hanno preso B Sti stronzi Oh mio dio Ho capito Chi è che ha preso B Eh Non era facile ragazzi Contro un Titan Intanto chiamiamo Il nostro Titan 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 Dai Dai Grandissimo amico Questo qui è My boyfriend No scherzavo Allora possiamo Usufruire della potenza Di lui qua Questo qui come minimo Muore Aia Ah questo non l'avevo mica visto però Dov'è? Qua? Qua? C'è il fumo ragazzi Non vedo niente Espulsione Mi sa che mi ha un po' preso Al volo proprio Sto facendo cagare Mi sa Perché non riesco A gestire la situazione Ci sono delle persone Che sono abbastanza forti I nostri nemici Cerchiamo di camper No Camperarcela No diventa un po' Noisy Il gameplay Ok Proviamo a andare Allora Quel Titan L'ha rotto il cazzo Detta come va detta Come minimo muore Oh mio dio Non ci credo Ma ha pestato Ma che due coglioni Mi ha pestato Mi ha schiacciato In tutti i versi Ciao amico Però non venirmi addosso Amico Aia no Il Titan ancora no Non mi ucciderai Sì Grazie Mi sono drogato ancora ragazzi Guardate come corro Andiamo su Fammi andare su Grazie No Non ci credo Ah no è amico Quello Quello no però Aia No io me la fugo Perché lì c'è un Titan Mamma mia Tu muori adesso Fuga 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 Ho il Titan pronto Intanto Però ho una missione Incontesa con lui qua Lo minimo muore Adesso Vai a bene Sotto la corazza Adesso ci manca Mi sa che l'hanno già stuprato Ma di brutto anche Andiamo a conquistare il C Perché là ci sono un po' di Titan nemici C'ho il Titan pronto Sì Yes C'ho il Titan pronto Lo chiamiamo lì Perfetto Saliamo a bordo Benvenuti a bordo Le auguriamo un buon viaggio Era tristissimo Era tristissimo questo Dove cavolo è ci Ah qua ok Ogni tanto Ecco Ho notato che Ogni tanto tira delle certe laggate Oh là Questi qui sono tutti i miei Tira delle certe laggate Che fan paura proprio Non so se ci sia Problema di grafica O di lagged Come rete Quello l'ho centrato Chi è che mi sta sparando Fini Figlio di puttana Anche tu Muori Stronza Bastardo Ok Ha degli altri No va bene Oh Questo da dietro Attenzione Da dietro No devo ricaricare Sono un deficiente Intanto ho schiacciato uno Top proprio No Uga te la Scendi E attiviamo la volontarietà Automatica del Titan No La torretta Sta stronza Sta stronza Ragazzi Siamo già a 10 minuti di video Stavolta sta durando Più del previsto Però è quasi finita Anzi ci hanno stuprato Perché loro stanno dominando Tutti gli obiettivi Infatti abbiamo perso Abbiamo perso Forza di piegare È durata Partita della durata giusta proprio Però io Voglio almeno Uccidere qualcuno Prima della fine della partita Adesso vado a cercare In giro Qua Qua c'è della gente Tipo Eccolo qua Amico mio Penso a farmi uccider Sì Livello 14 Anche ragazzi Va benissimo Il Titan Già stuporato Che cacchio di arma è? Cosa è un lancio granate? Vabbè ragazzi Adesso non mi fa più spawnare Perché la partita è finita Devevo aspettare che Tipo I miei alleati Raggiungano La navicella Per provare a fugarsela Ma non ci riusciranno Perché è impossibile Prima o poi li stuprano tutti Quindi ragazzi Mi raccomando Se il video vi è piaciuto E se vi piace questo gioco Fatemi sapere anche nei commenti Se vi piace questo gioco Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Per supportarci al 100% Mi raccomando Se non l'avete ancora fatto Fatelo Con questo io vi saluto Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao